Let's go bitches! All'altro con il mio nuovo team perché ora non gioco più in un team italiano, non gioco in un team tedesco che è stato invitato sia alla Gfinity Measure sia all'European Pro League. Oltre a questo sto facendo video ogni giorno al meglio proprio, sto cercando di fare le cose migliori possibili che vi possano piacere su COD e mi sto facendo anche nuovi giochi come Smite, come Counter Strike, ok mi mancano ancora delle cose per poter fare questi giochi però piano piano si può fare tutto. Io vi saluto bitches, andate sul canale che vedete qui sotto, sta sia nelle descrizioni sia lo vedete scritto qui sotto. Let's go bitches!